assieme allora la lince di gavirate e il record man che stanno arrivati in questo momento alla prima base vita passo continuo tutti e due andrea macchi bello concentrato frankie bello rilassato dai 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 franco allora dai visto che siete così calmi giusto due secondi a lui a lui no a lui è contento allora come sta andando allora franco stiamo timbrando tutte le fontane tutte le fontane che ci saranno preparate le crediamo allora le raffreddiamo anche un po con un po di ghiaccio grazie